Torno per l'ennesima volta, non ricordo più quante volte ho segnalato il problema, torno alla concattedrale di Taranto. Guardate questa magnifica realtà artistica, la concattedrale con le famose vele di Gioponti, le vele che si riflettono nelle acque e guardate in quali condizioni schifose si trovano le vasche. Una palude, uno stagno, un porcile, una melma, qualcosa di incredibile, guardate pazzesco. Appena un mese fa, perché l'amministrazione Melucci sa solamente prendere per il culo i tarantini, il sindaco Melucci, il vice sindaco e tutta l'amministrazione, compresa la maggioranza, sanno raccontare favole. E' arrivato, si è insediato il nuovo arcivescovo, c'è stata la cerimonia di insediamento, tutto bello e pulito. Una volta che, come si suol dire, passato il santo, passata la festa, il porcile è riemerso come prima e più di prima, perché la manutenzione non avviene. E' un porcile, Melucci fa vedere, ha dato una lavata di faccia, giusto perché si doveva tenere la manifestazione, l'evento. E' un po' come il cimitero, arriva il 2 novembre e il cimitero viene, il San Brunone viene data una lavata, una ripulita sommaria. Poi, dopo di che, chi si è visto, si è visto. L'importante però è che il giorno della festa, diciamo così, dell'evento, tutto abbia una parvenza, parvenza di pulizia. Guardate, ma questa è una città del terzo mondo, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, virgola, città da lui amministrata e resa appunto città del terzo mondo. Perché solo nel terzo mondo, guardate, assistiamo a queste scene. Qui, lo ripeto, io prossimamente, a giorni, mi presenterò al Dipartimento di Prevenzione della ASD di Taranto, perché queste sono condizioni che mettono a rischio la pubblica incolumità. Perché qui, vedete, non so, avremo le rane, avremo gli insetti, cioè questa è una zona, un'area assolutamente insalubre. E qui, vedete, non ce la possiamo prendere con il cittadino. Se fosse pieno di cartacce o altro, uno potrebbe dire è il cittadino che le butta. Qui proprio è il sistema che non funziona. Le vasche non vengono pulite, non vengono ripulite, l'avete capito o no? C'è una palude, c'è un porcile. Caro Melucci, voi state veramente creando un danno all'immagine artistica, culturale di Taranto. Questo è il sentiment che provoca la visione della concattedrale, caro Manzulli. Sai qual è questo sentiment? Disgusto. Il sentimento, lo stato d'animo che prova il cittadino, ma soprattutto il turista, è il disgusto. Quando tu, Manzulli, parli di sentiment, io ti dico il sentiment, la sensazione, lo stato d'animo, il sentimento, è quello di disgusto. Un porcile. Questo è il valore dell'amministrazione Melucci. Questa è l'immagine di Melucci sindaco. Questa è l'immagine dell'amministrazione guidata da Rinaldo Melucci e da tutta la Giunta. Incapaci, incapaci di amministrare. Voi state distruggendo, state danneggiando Taranto. Un'incapacità mai vista. E scusate se mi ripeto. Perché voi avete il coraggio di parlare di Taranto, capitale europea, di capitale del mare. Voi l'avete fatta diventare la capitale della merda con la vostra amministrazione. Perché questa è una situazione di merda. Di merda. E nulla più. E ditemi, io vi sfido sempre a dimostrarmi il contrario. Perché a mio vantaggio, a mia difesa, parlano le immagini. Non me le sto inventando io. Non sto dicendo che Melucci è bello e brutto. Vi sto dicendo che così amministra Rinaldo Melucci e la sua Corte dei Miracoli. Questi sono i risultati. Ho ragione io che prima ve ne andate e meglio sarà per Taranto?